Se pensate che io sia bravo, aspettate di vedere Fabio Paim. Siamo nel 2003, Cristiano Ronaldo è appena sbarcato al Manchester United, dopo aver giocato una grandissima amichevole contro gli inglesi, e dopo aver concluso il suo percorso allo Sporting Lisbona. In un'intervista rilascia queste dichiarazioni, svelando al mondo un altro potenziale fenomeno, Fabio Paim. Come Cristiano è un prodotto del bivai order club, ma secondo la maggior parte degli allenatori che hanno seguito la sua crescita, può addirittura diventare più forte. E come abbiamo visto, lo stesso CR7 era della stessa opinione. Ma allora, che cosa è successo? E perché Fabio Paim non è riuscito ad avere una grandissima carriera? Partiamo dall'inizio. Fabio nasce nel 1988, a tre anni in meno rispetto a Cristiano Ronaldo, e cresce nel settore giovanile dello Sporting, dimostrando, appena entrato, quindi già all'età di 10 anni, di avere delle qualità impressionanti, soprattutto nell'uno contro uno. Le squadre più importanti d'Europa impiegano davvero poco a capire, attraverso il lavoro degli osservatori, che ha il potenziale per diventare un campione, ed infatti viene subito accostato alle migliori formazioni. Quando compie 17 anni, è già davanti ad una prima importante scelta, perché ha la possibilità di firmare per altri club, oppure restare allo Sporting, che, per cercare di trattenerlo, gli mette sul piatto un'offerta davvero importante. Uno stipendio da circa 20.000 euro al mese, che sono davvero tanti se consideriamo che parliamo dello Sporting, e soprattutto di un periodo completamente diverso rispetto a quello attuale. Un dirigente portoghese ha raccontato, era uno dei talenti più assurdi che io abbia mai visto. A 17 anni lo voleva il Chelsea, subito. Lo Sporting fece uno sforzo economico tremendo per tenerlo, ma la testa non ha accompagnato il talento che aveva. Era devastante nell'uno contro uno, riusciva a fare tanti assist e gol. Che cosa vuoi di più? La firma sul nuovo contratto pone anche dei dubbi sul suo comportamento extracampo. Il ragazzo, infatti, decide di investire tutto quello che incassava in auto di lusso, sperperando di mese in mese il suo stipendio. Tutti aspettano un suo esordio in prima squadra, ma lui smette di allenarsi seriamente. Lo Sporting decide di inviarlo in prestito in seconda divisione. Lui però, dopo sei mesi, è costretto a cambiare squadra, perché provoca diversi problemi all'interno dello spogliatoio. Quando compie 20 anni, decide di affidarsi a Mendes per rilanciarsi. Il potente procuratore gli organizza un'occasione unica, un prestito al Chelsea per giocare in Premier League, sotto la guida di un allenatore che ha grande considerazione del suo talento, Felipe Scolari, l'ex CT della Nazionale Portoghese, lo aveva già conosciuto, infatti, proprio all'epoca da commissario tecnico, e voleva addirittura convocarlo per gli europei del 2008. Fabio però spreca l'ennesima occasione, ed infatti a Londra dura soltanto quattro mesi, in cui riesce a giocare soltanto con la squadra di serve. Torna in patria, nuovamente, e va in prestito al Rioave, sempre tramite lo Sporting. Ma anche qui le cose non funzionano, e viene messo immediatamente fuori squadra, ufficialmente perché aveva uno stipendio troppo alto rispetto alla media dei giocatori presenti in Rosa. Ma è chiaro, a quel punto, che problemi sono altri. Prova a ricominciare, partendo dalla terza serie portoghese, ma nemmeno questa è la volta giusta. A 22 anni, Rescinde è definitivamente il suo contratto con lo Sporting Lisbona, iniziando un infinito girovagare per il mondo. Angola, Portogallo, Qatar, Malta, Lituania, Lussemburgo, Polonia, e addirittura in Brasile per giocare in alcuni campionati amatoriali. Il nazionale ha iniziato con le giovanili del Portogallo, ma quando poi ha capito che non sarebbe mai arrivato in prima squadra, ha dato disponibilità all'Angola, sfruttando i suoi genitori che avevano degli origini proprio di quel paese. Nonostante questo, non ha mai giocato nemmeno una partita con la nazionale africana. I motivi del fallimento, come avrete capito, sono da ricercare nella sua vita extracampo, dove è stato coinvolto in diversi episodi. Per esempio, nel 2015 è stato accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza. Poco dopo ha partecipato ad un reality show in Portogallo, che da quello che ho capito è simile al grande fratello, ed è stato poi squalificato a causa di un'aggressione ai danni di un altro concorrente. Infine, nel 2019 è stato arrestato dalla polizia portoghese perché trovato in possesso di una quantità indefinita di droghe illegali, con l'accusa anche di far parte di un'organizzazione criminale. È stato poi assolto in tribunale perché le intercettazioni non sono state ritenute delle prove ammissibili. Uscivo la notte, bevevo troppo, non andavo ad allenarmi. A volte mi sentivo un pagliaccio. Tutti volevano vedermi, ma nessuno mi aiutava. Volevano soltanto che andassi in campo, nient'altro. Il paragone con Cristiano? Avevo il suo talento forse di più, ma mi mancava tutto il resto. Non avevo la sua etica del lavoro. Viva il suo talento. Grazie a tutti.